160 anni del corpo di Riva del Garda, vuol dire un tuffo nella storia in tutto quello che questo corpo ha fatto in questi anni. 1200 interventi all'anno, vuol dire 3-4 interventi al giorno con picchi molto alti durante l'estate. In un territorio anche particolare, perché c'è il lago, ci sono le infrastrutture, c'è la montagna, quindi serve anche una capacità tecnica operativa e un'esperienza importante. E quindi credo che l'orgoglio che oggi ha dimostrato il corpo di Riva del Garda vada fortemente in questa direzione.